bella tutti i lupacchiotti lupacchiotti e benvenuti in un nuovissimo video di wolfman gamer precisamente in un vlog che sono qui sperduto sulle montagne la passeggiata con più bel panorama non posso non documentarli farvela vedere già che ci sto pensando e pensiamoci adesso non pensiamoci più vi dico di direttamente a tutti qui in un video che sony vegas mi sei bloccato non so come mai non so per come non ho fatto gli aggiornamenti perché è scaricato in un modo che non vi dico e quindi video sul computer dovranno aspettare proverò a farlo in questo mio nuovissimo cavalletto su qua telefono che c'è la 4k presente fps vabbè e vedremo come va la vita trovi l'ho crolli ciao orgo vedremo al ferragostus quindi sotto lì ci dovrebbe essere il nostro sciole sciole girasole panorama panoramis queste cose non si fanno likes il panorama più bello che potrei vedere ma questo è vero non smetti per interferenze seriamente questo è un panorama più bello che poi vedremo che bello montagnole un po di tutto un questo è la valle dell'eco perché è trova i prendi fiato per un urlo no di prendere fiato per farlo bene ma cosa non ho capito devi urlare e poi tiri sai caucasicus prosegue imperterrito il suo cammino ignaro dei pericoli che starà per incontrare lungo il percorso ma il suo portamento mascolino e i suoi muscoli oltre natura saranno un'ottima fonte di aiuto contro potenziali avversità ci c'è chi è ci c'è la sto dicendo il suo percorso dopo aver contratto una rara forma di meteorismo intestinale dopo aver mangiato delle bacche serbatiche raccolte nel prato ed eccoci qua in questa radura incantata l'homo caucasicus si è appena concesso un rilassante momento liberatorio per il suo intestino lo metto ci si è trovato altre forme di civiltà dopo un intero pomeriggio di cammino e di scemate di scemate dall'una e mezza alle 5.11 abbiamo camminato e ora troviamo per prima volta un po di case almeno così si può fare merenda che qui si muore un po tantissimo l'homo caucasicus la palida idea di quello che sta dicendo arrivati alla conclusione del nostro viaggio abbiamo superato molte insidie ma alla fine il viaggio è stato compiuto con successo insomma tutto bene del nostro viaggio è stato compito con il nostro viaggio è stato compito tutto bene No, I don't think that we could work this